Art Dance in scena Ritmica Carmanola Ritmica Carmanola E poi Ilario Panise Dance Studio A.S.D. Eurinica Il Mambo Ziamo Finanza Carmanola E infine la compagnia della nebbia E poi le pefane, dove sono le pefane? Venite qua davanti Le pefane Valle a prendere che sono là dietro Pefane Hola, hola Allora adesso la coreografia me la faccio fare Io mi faccio fare il Zuppa Fitness Allora siamo pronti? Riccardo Riccardo 1, 2, 3 Azzurro, il pomeriggio il corpo azzurro D'olio gusto del me Mi accorto di non avere più risorse Senza di me Ma il treno dei miei sideri, del mio pensiero è il contrario, va Ma il treno dei miei sideri, del mio pensiero è il contrario, va Grazie a tutti, ciao, buon anno, al treno, al treno un salto, al treno tutti insieme un salto, uno, due, tre, sì!